A tutti ragazzi, è il vostro Paolo Inter, un bacione da parte mia, ben ritrovati qui sul mio canale. Allora, domenica sera, recupero della 25esima giornata del campionato, ci rituffiamo quindi il campionato e si ritorna a fare sul serio, speriamo, tra virgolette. Dopo la breve parentesi di Coppa Italia, che è il risultato un po' sfortunato per noi, perché la prestazione è stata abbastanza buona da parte dei nostri ragazzi, però non siamo riusciti a ottenere questa agognata qualificazione anche un po' per il risultato dell'andata, come sapete che la sconfitta dell'andata a San Siro che alla fine, diciamo, ai punti, è stata determinata appunto per la qualificazione. Quindi una gara giocata bene anche se c'è stata qualche ombra, perché il reparto offensivo ha deluso, cioè soprattutto il cosiddetto Lula, Lukaku e specialmente Lautaro hanno deluso e quindi due giocatori che sono sempre stati molto importanti per noi, decisivi, hanno un po', diciamo, non hanno risposto all'appello. Malgrado ciò, comunque la squadra a San Paolo ha giocato abbastanza bene, è peccato poi che non siamo riusciti a concretizzare tutte quelle azioni da rete che abbiamo creato e poi siamo stati anche un po' polli, come vi dicevo nella mia disamina post partita, un po' polli a prendere anche quel gol in contropiede a Napoli e poi il risultato appunto determinato per la qualificazione, perché il pareggio poi non è servito a nulla. Votiamo pagina, purtroppo rimane un po' di rammarico, un po' di amarezza, però diciamo che rimane comunque la buona prestazione. Io voglio vedere comunque con la San Doria un'Inter ancora più aggressiva, più cinica, un'Inter anche più propositiva, possibilmente, voglio vedere un'Inter a trazione anteriore che voglia vincere a tutti i costi questa gara, perché ripeto, è una partita che dobbiamo vincere, è una partita dove da qui alla fine bisogna fare più punti possibili e fare più vittorie possibili e quindi è una gara importante per noi. In questo momento in classifica siamo prima la Juve 63, il secondo la Lazio 62, poi ci siamo noi, un po' di staccate a 54, poi c'è dietro di noi c'è l'Atalanta quarta a 48, la Roma a 45 eccetera eccetera e via via tutte le altre. Siamo in una terza posizione, purtroppo anche a causa della flessione che abbiamo avuto negli ultimi mesi di campionato con la Lazio che vinceva tutte le gare e una Lazio che andava a mille e quindi i Laziali ci hanno poi superato all'ultimo momento e ci hanno distaccato di qualche punto e noi dobbiamo comunque tornare ad essere quelli della prima parte del campionato, dobbiamo ricominciare a vincere, a rimacinare i punti e a riprenderci questo secondo posto. Quindi l'obiettivo deve essere questo. Questa partita era stata rinviata, prima di questa partita che fu rinviata, l'ultima partita che noi giocammo in pratica fu quella contro la Juventus che perdemmo purtroppo, poi ci fu la partita di Europa nel mezzo tra quella con la Juve e questa qui con la Sampdoria, ci fu l'andata mi sembri Spagna contro il Getafe, partita che fu rinviata e che si giocherà molto probabilmente i primi di agosto, almeno da quello che è trappelato dalle ultime notizie appunto riguardanti le ultime decisioni dell'UEF, si giocherà i primi di agosto appunto in questa fase finale che si disfrutterà in Germania, per quanto riguarda l'Europa League, mentre la Champions League si disfrutterà in Portogallo. Quindi noi giocheremo in gara secca contro il Getafe i primi di agosto, comunque ne parleremo poi quando saremo proprio in prossimità della gara. Adesso occupiamoci di questi prossimi impegni, ci sarà appunto questa partita di domenica sera contro la Doria di Ragneri, che è un recupero delle 25 giornate, poi dopo tre giorni, circa il mercoledì 24, ci sarà la ventisettesima giornata contro Sassuolo, Inter-Sassuolo, sempre a San Siro, a Meazza, però alle 19.30 anziché le 21.45, comunque sempre serale. Poi giocheremo anche di pomeriggio qualche altra partita, ma giocheremo, soprattutto giocheremo di sera. Cosa aspettarsi da questa Inter? Un Inter che purtroppo dovrà fare a meno di Stefanino Sensi, notizia di poche ore, poche ore fa, notizia sicuramente poco piacevole, si è infortunato di nuovo in allenamento, uno Stefanino al quale faccio i miei più sentiti auguri, spero di pronta guarigione, spero che si rimetta presa perché ci servirà sicuramente nelle prossime partite e speriamo che questo suo infortunio non sia un infortunio grave, soprattutto speriamo questa cosa qui. Per quanto riguarda la formazione, ancora presto per la formazione, domani sarà la probabile e domenica giorno della gara che sarà l'ufficiale. Mi sembra di avere capito un po' da conto che forse vorrà riproporre l'Inter del San Paolo, l'Inter contro il Napoli, quindi disporrà degli stessi uomini, credo che riproporrà ancora Ericsson a centro capo e devo dire francamente che non mi è dispiaciuto, anche se secondo me la danesa si deve un po' ambientare, giustamente, anche come ruolo, però si vede, si vedono comunque, ci sono segnali positivi e si vede, si è visto anche la partita appunto di Coppa Italia che sta prendendo piano piano, sta prendendo in mano la squadra e quindi potrà essere un trascinatore più avanti e penso che riconfermerà tutti. Adesso non so se li farà giocare Bastoni, io spero di sì perché Bastoni ha fatto un'ottima gara contro il Napoli e spero che lo riconfermerà e dobbiamo vedere appunto se al suo posto non farà giocare Godin appunto perché Godin sembra che ci sia un po', era per la partita di Coppa Italia, se vi ricordate bene, vi dicevo che era indisponibile, era fuori forma insieme a Danilo D'Ambrosio, dobbiamo vedere se non farà giocare questi due giocatori al posto di altri due. Comunque lo impareremo domani o dopodomani. Per il momento io mi auguro comunque di, personalmente mi auguro di vedere una bella Inter, un Inter che vincere soprattutto e si prenda questi tre benedetti punti. E niente, vi saluto ragazzi, ci vediamo prossimamente, le live le inizierò per Inter Sassuolo, quindi ci vedremo in live mercoledì 24, 19 e 30. E detto ciò io vi saluto, vi mando un bacione, come al solito, vi auguro buona giornata, buona continuazione a tutti e come vi dico sempre, prima di salutarvi, amala sempre e comunque. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima, un bacione, il vostro Paolo Inter, ciao! Amala, pazza intera amala, è una gioia infinita, che dura una vita.